La Notte Bianca rappresenta un evento molto importante per il nostro istituto. Da un punto di vista i ragazzi mettono in mostra tutto il loro talento, fanno in modo di far vedere che in questa scuola oltre a studiare e impegnarsi, si fanno anche altre attività, come per esempio il teatro, la danza, il canto, la recitazione. Per cui questo momento rappresenta anche un momento, se vogliamo, anche pubblicitario del nostro istituto, dove ci apriamo al territorio, alle famiglie, anche alle famiglie degli studenti della scuola media, facciamo vedere il nostro istituto, la nostra storia, il nostro modo di lavorare e scopriamo i ragazzi sotto un altro punto di vista, in un modo molto più naturale, dove la creatività, la voglia di fare emerge in maniera libera. I ragazzi riescono ad esprimersi nel miglior modo possibile. Questo evento si conigua con gli altri due del nostro istituto, cioè la Notte Bianca del liceo classico e l'anniversario del liceo linguistico. Sono stati tre momenti in cui il nostro istituto ha aperto le porte a tutto il territorio.